Porreimos, è questo il termine con il quale Roma e Sinti indicano lo sterminio degli zingari perpetrato dai nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. Fornò 500.000 persone di etnia Rom sterminata nei campi di concentramento allestiti in tutta Europa dai nazisti prima e durante la guerra. Un olocausto dimenticato, quello degli zingari, che ha finito per essere oscurato di fronte alla Shoah, in cui persero la vita 6 milioni di ebrei bruciati nei forni crematori dalla follia nazifascista o davanti ai 70 milioni di morti del conflitto. Ma in occasione della giornata alla memoria, che cade il 27 gennaio, la biblioteca assata di Nuora ha deciso di dedicare una parte del proprio ricco programma proprio all'olocausto degli zingari. Forse è quello di cui si parla meno, mentre sulle cronache finiscono per altri motivi gli eredi delle popolazioni scampate allo sterminio. Nell'auditorium della biblioteca assata sono stati accesi riflettori su questa pagina a molti sconosciuta dall'opera di sterminio attuata dai nazisti nei confronti delle minoranze etniche, politiche, ma anche contro gli omosessuali. Tutte categorie di persone che non rientravano nel disegno di purezza della razza elaborato da Adolf Hitler e messo in piedi con scientifica organizzazione dal popolo tedesco, con la complicità degli alleati e dei regimi fascisti, italiani compresi. La giornata dedicata all'olocausto degli zingari è stata presentata da Vanina Mulas, commissario del consorzio bibliotecario. All'evento ha partecipato lo scrittore Pino Roveredo, vincitore del premio Campiello, nel 2005. Alla presenza degli studenti delle scuole medie cittadine si è parlato allo sterminio degli zingari attraverso un reading proposto dalla compagnia Cerdana Teatro, le cui letture sono state accompagnate dalla musica di Gian Piero Secchi e Sebastiano Coi. Sono stati proiettati alcuni filmati tratti da vari archivi che hanno raccontato attraverso le immagini e le testimonianze dei sopravvissuti. La triste sorte toccata agli zingari, marchiati con un triangolo marrono con impressa la lettera Z e finiti in mani naziste, sterminati, utilizzati come cavie di esperimenti scientifici. La proiezione del film, a forza di essere vento, lo sterminio nazista degli zingari ha segnato il momento più alto di questa giornata dedicata all'olocausto degli zingari. Stasera e domani l'evento verrà riproposto per la cittadinanza e per gli studenti delle scuole superiori.